Mettiamo tutto sul giornale. Era questa la minaccia nei confronti dei fratelli Giancarlo e Stefano Paci che avrebbero dovuto dargli i 30.000 euro richiesti per il pizzo. Volevano soldi, in cambio del silenzio ed ora sono accusati di estorsione nei confronti della Profiglas, azienda di Bellocchi di Fanno, leader nel settore della lavorazione dell'alluminio che dà lavoro a circa 600 persone. I protagonisti della vicenda sono Mariano Tieri, quarantenne, sposato con quattro figli, incensurato e in mobilità. E' Antonio Amato, di 45 anni, due figli, anche lui senza precedenti penali e ancora le dipendenze dell'azienda, anche se in malattia. Ritiene di essersi ammalato di tumore in seguito ad un infortunio causato dal malfunzionamento di alcuni muletti e di essere stato spostato varie volte di reparto finché non ha accusato un malore, respirando fumi nocivi durante le ore di lavoro dedicate alla pulizia di un canale di un forno fusorio. I due operai, il 20 aprile scorso, avevano scritto ai giornali ed alcune trasmissioni televisive tra cui striscia la notizia, lamentando le condizioni e i pericoli che incontravano alla Profiglas. In attesa di risposte, i giornalisti dei mass media e della carta stampata hanno iniziato i loro accertamenti, dai quali si è appreso che secondo i titolari dell'azienda, Tieri e Amato hanno chiesto 10.000 euro il primo e 20.000 il secondo per chiudere il contenzioso. D'altra parte, secondo i fratelli Paci, se si fossero divulgate queste denunce sarebbe andato tutto a discapito dell'azienda. Per questo motivo è stato fissato un appuntamento svoltosi sabato 9 maggio per la consegna del danaro. Ottieri e Amato, una volta terminato l'incontro e usciti dalla stanza, si sono trovati di fronte i carabinieri, ovviamente avvisati dai titolari. Nella giornata di ieri il PM Giovanni Narbone ne ha convalidato l'arresto, ma i due colleghi sono stati concessi gli arresti domiciliari, secondo gli avvocati difensori. Però le loro richieste erano legittime, considerate come un accordo per risolvere i danni di salute riscontrati.